Non ho recuperato l'atto dal mercante. Non avete più alcun obbligo. Andate. I braccianti sono liberi. Al-Hul verrà a saperlo. Devo prepararmi a colpire. Al-Hul verrà messo al corrente. Metti fuori il naso, codardo. Eccolo lì. È la mia occasione. È la tua fine. È la mia occasione. Alla ti maledica. Volgi il tuo odio a te stesso, Masahud. È stata la tua malvagità a condurti qui. Malvagità? Verso chi? Gli insipienti? I deboli schiavi del proprio fato? Dominarli è nella nostra natura divina, ed essi sono tenuti a un contributo. Un contributo? A cosa? Al futuro, la cui conoscenza giace sepolta sotto queste sabbie. Alcune cose devono restare immutate. No, 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 no. Questi sono doni. Ci sono stati destinati. Ci parlano. Come tu ben sai. Io? Oh, sì. Sarai anche un occulto. Ma non solo. No. 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 Le pagherai tutte. Le pagherai tutte. Le pagherai tutte. Libera la mente. La ricerca incessante di Al-Hul a spese di vite umane è giunta al termine. È un giorno vittorioso per coloro che sono scampati alla sua crudeltà e per gli occulti. Le trame dell'ordine a Bagdad sono ancora un mistero, ma almeno ora siamo certi che Al-Hul non reciterà più alcun ruolo. Ho un motivo di credere che fosse alla ricerca di oggetti simili a quello che rubai al palazzo d'inverno. Perché l'ordine sta cercando queste reliquie del passato? E perché le protegge con tanta dedizione? Stai iniziando a farti le domande giuste, Basim. Insieme troveremo le risposte. Ormai non ho altro che domande. Che intendi dire? Niente. Dimenticate le mie parole. Come posso farti da guida se non parli con chiarezza? Io sono... Io sono... Tormentato da incubi. In questi incubi un djinn mi perseguita, finché non mi risveglio sudato e in preda al terrore. A Dalamoth avevo quasi smesso di pensarci. Ma quando ho ucciso Al-Hul, l'ho percepito di nuovo. E me ne chiedo il perché. Perché qui? Perché ora? Perché io? Mille domande. Senza risposta. Avrei voluto dirvelo, ma... Temevi che potessi considerarti un debole. Siamo deboli solo se ci rassegniamo a esserlo. Per vincere una debolezza, devi fare il necessario per lenire il dolore che ne è causa. Mi concedereste una breve pausa. Vorrei cercare una vecchia amica. Nihal? Mi ricordo. Lei è importante per te, vero? Sì. Ma l'ultima volta credo di averla convinta del contrario. E ciò ti addolora. Allora, affrettati a lenire questa ferita. Mi troverai allo studio di Harbiya quando sarai pronto. Se davvero ho visto Nihal, non ho idea di dove sia andata. È tornata a Dambar, forse. Allora. Assisi. Allora, affrettati aERSstorm. Allora. Abbiamo avuto i howeveri. Allora.